Eccola qua, vuoi ballare con me? Grazie, e ce ne andiamo di là perché chi arriva? Giuliano Danieri sulle notte della Traviata, buongiorno, ben trovato, per quale ragione? Perché domani è il 10 ottobre e sarà un eccellente compleanno, eccolo lì, Giuseppe Verdi che ancora tanto c'ha da insegnare e che te oggi insomma avrai modo di illustrarci nelle sue multiforme opere che ha fatto nella sua vita, perché conosciamo le più famose, è celebre appunto, stiamo sentendo Libiamo nei reti calici, ma ne ha fatte tante altre anche. Assolutamente, qui ascoltiamo un brano della Traviata, famosissimo, e in effetti la trilogia popolare che corrisponde appunto a Traviata, anzi nell'ordine Rigoletto, Traviata e Trovatore del 53, sono le opere di Verdi certamente più famose, più rappresentate al mondo, la Traviata in particolare, però ha composto veramente tantissime cose, dopo queste opere ce ne sono tante altre, Othello, Falstaff sono le ultime, Aida, altra opera celebre, e tante altre prima. Il motivo per cui questa trilogia popolare, quindi anche Traviata, è così famosa, beh, forse può essere legato al fatto che sono opere che contengono dei brani che rimangono veramente nella memoria dell'ascoltatore in maniera, si incollano proprio all'orecchio, no? In inglese si usa la parola earworm, verme dell'orecchio, sarebbe qualcosa appunto che si insinua dentro di te e non se ne va più. Sono dei brani in qualche modo autoconclusi, iniziano e finiscono e appunto quindi rimangono impressi nella memoria, cosa che invece nelle opere successive di Verdi succede un po' meno, non perché le melodie siano meno belle, ma perché la forma delle sue opere diventa più complessa, magari poi dopo possiamo approfondire questo aspetto. Diciamo che c'è una fase, perdonami se ti disturbo, se ti interrompo, il Verdi un po' più tardo, però diciamo sono delle opere sulle quali il teatro dell'opera si sta molto concentrando negli ultimi anni. Assolutamente, negli ultimi anni. Perché? Cioè cosa hanno da dirci? Tantissimo, hanno da dirci tanto perché intanto affrontano dei temi e dei drammi estremamente attuali, sono opere che spesso hanno a che fare per esempio con il potere, l'opera che vedremo fra un mese e mezzo, Simon Boccanegra, è proprio un'opera incentrata sul potere e su come il potere logora gli esseri umani e come il potere logora anche i loro rapporti familiari ad esempio. Quindi sono opere sicuramente molto attuali e sono opere che è un piacere ascoltare e vedere in scena perché hanno una carica teatrale fortissima. Sono costruite in un modo secondo me quasi più vicino al teatro di prosa che al teatro lirico. Il teatro lirico spesso, almeno nella tradizione ottocentesca, è fatto un po' di momenti in cui l'azione va avanti, poi si ferma, ci si esprimono le proprie emozioni appunto in queste aree che dicevo autoconclusive come quelle appunto che troviamo in tante opere della trilogia popolare. Invece nelle opere successive il dramma fluisce in maniera quasi ininterrotta, in una maniera che veramente riesce ad accalappiare l'attenzione del pubblico in maniera molto forte. L'opera di Roma sta investendo molto nel, non riscoprire perché sono molto famose anche queste, ma comunque nel riproporre queste opere al nostro pubblico e io sono molto contento perché sono fra le mie opere preferite. Manca all'appello ancora Falstaff che è l'ultima opera di Verdi. Qual è la tua opera preferita? Falstaff per l'appunto, quindi io sto lanciando un appello in questo momento per ascoltare quest'opera, non è escluso che appunto l'ascolteremo molto presto, però ecco anche Otello che è andato in scena per esempio lo scorso giugno è un'opera straordinaria, a parte che è basata su un dramma di Shakespeare famosissimo e questo dramma di Shakespeare viene approfondito dalla musica in maniera, se vogliamo, potente quanto l'originale. Chiaramente assume una marca diversa appunto, si tratta di un'opera, non di un dramma teatrale puro e semplice, ma appunto approfondisce temi come la gelosia in quel caso, la cattiveria di un personaggio, Iago, che viene dipinto in maniera mefistofelica, in una maniera veramente vivida, quasi spaventosa direi. Insomma, sono opere che davvero contengono una serie di tesori inestimabili direi. Dopo la pubblicità continuiamo a parlarne insieme a te, ma vi porteremo anche al festival che ogni anno rinnova il suo amore per Verdi, che è appunto il festival di Verdi. Pubblicità. Domani 10 ottobre è il compleanno di Giuseppe Verdi, noi i compleanni li festeggiamo in anticipo, ma ogni occasione buona per parlare di Giuseppe Verdi, così come il Teatro dell'Opera di Roma ce lo propone, così come Giuliano Danieli, musicologo, ce ne sta parlando quest'oggi in studio. Abbiamo accennato, prima di andare in pubblicità, a un festival che si svolge proprio nelle terre verdiane e lì, in questo festival, in questi giorni, ci porta Fabrizio Romagnoli con Romolo Napolitano. Guardiamo. Quest'anno, dal 21 settembre al 20 ottobre, a Parma e a Busseto, va in scena il Festival Verdi 2024. E assolutamente non si può mancare di vedere il Cucù Verdiano, che avviene ogni giorno alle ore 13, dove i cantanti del Conservatorio si affacciano dai fornici del Teatro Regio e interpretano un'aria verdiana. Andiamo ad ascoltare. Questa volta, Marta, questa volta vinco io. Fabrizio, sono settimane che mi alleno. E chi le avrebbe mai detto che al Festival Verdi 2024 ci fosse anche una sala giochi completamente dedicata a Verdi? Ma no, è Marta, no! Ma cos'hai vinto tu? Mi sono distratto un attimo. Fra poco andrà in scena la vera protagonista del Festival Verdi 2024, l'opera. Ma prima ho scoperto che tutti gli artisti firmano un manifesto etico. Vorrei saperne qualcosa di più. Entro al Teatro Regio e cerco qualche informazione. Seguitemi. Paolo, che cos'è il manifesto etico? Il manifesto etico è un progetto di impegno sociale che il Teatro Regio ha ideato e realizzato insieme al Comune di Parma, la Fondazione Cari Parma e l'Associazione Parma Io Ci Sto, il cui obiettivo è andare incontro al pubblico e alle comunità più fragili, per portare lo spirito e la musica di Giuseppe Verdi a più persone possibile. E ora vado a conoscere il maestro del coro Gabriella Corsaro che realizza un progetto del manifesto etico. Gabriella, che cos'è il progetto Opera in Carcere? Opera in Carcere è Giuseppe Verdi conosciuto e sperimentato da un coro di detenuti. È un progetto che dura tutto l'anno e che porta nelle carceri di Parma l'attività corale legata all'opera lirica. Ed ora vado a conoscere chi può dirmi di più sull'opera di questa sera. Maestro, che opera va in scena questa sera? Questa sera va in scena La Battaglia di Legnano di Giuseppe Verdi. È un'opera poco eseguita, desueta ed è l'occasione giusta per venirla a riascoltare. Restituire il messaggio di Verdi, del compositore, in un'opera che non si conosce in un'occasione come questa è una grande responsabilità ma un immenso piacere. Non mi resta che vedere questo meraviglioso spettacolo. Assolutamente. Grazie. Viva Italia il sacro umano, tu ti stringe i figli suoi, e soffinti tanti a faro un sacco, oi e voi. Grazie a Fabrizio e a Romolo. Abbiamo visto in che modo verrà omaggiato Giuseppe Verdi nelle terre verdiane, e invece Roma con il teatro dell'opera in che modo l'omaggerà nella stagione che sta iniziando, manca poco più di un mese. La stagione 2024-2025 si sta per aprire il 27 novembre e inizierà proprio con un'opera verdiana, Simone Boccanegra, che è una delle sue opere un po' più controverse, perché in realtà ne esistono due di Simone Boccanegra, una versione del 57, una prima versione, e una versione dell'81, che è quella che solitamente si esegue e che eseguiremo anche noi. La prima non fu un particolare successo, devo dire, fu un fiasco si potrebbe dire, alla Fenice, e venne poi ripresa varie volte, leggermente modificata, uscì di repertorio, poi a un certo punto Verdi decise, su spinta del suo editore Giulio Ricordi e anche dell'intervento di Enrico Boito, importantissimo letterato e librettista, decise di riscriverla, modificandone dei passaggi e rendendola in qualche modo più pregnante. E quindi nasce la seconda versione, che è quella che sentiremo appunto. Però in realtà intorno a questo Simone Boccanegra succederanno anche altre cose. Abbiamo visto l'esempio di Verdi Off a Parma, che è un'iniziativa bellissima. E anche Roma, devo dire, si impegna su questo fronte. Per esempio, prima dell'andata in scena del Simone Boccanegra, ci saranno alcune rappresentazioni curate dal teatro patologico, ora non vi sto a dare dei dettagli, ma legati appunto alla nostra inaugurazione. Teatro patologico, associazione che coinvolge comunque persone con diversi tipi di disabilità e quindi veramente un modo di, come dire, fare un teatro il più possibile inclusivo e che davvero parli alla società, tutta la società odierna. Poi ci sono altre iniziative, come per esempio il prossimo numero di Calibano, la nostra rivista di attualità culturale, che partirà proprio da Simone Boccanegra per affrontare il tema del potere in tante sfaccettature diverse. Quindi questo per dire che intorno a un'opera in realtà c'è un mondo, una costellazione di iniziative che possono aiutarci davvero a fare di quell'opera un qualcosa che ci appartiene e ci segna, potremmo dire. In che modo Simone Boccanegra cambia nel corso del tempo? Ci sono delle opere che crescono anche col crescere dell'autore che le produce. Nel suo caso appunto ci hai spiegato come mai fu chiesto a Verdi di rimaneggiarla, di rifarla, di rimetterci mano. Però in un'opera così anche complessa, insomma non semplicissima, quale fu poi il segreto del successo che poi ebbe effettivamente nell'81? Certo, beh è un'opera come dicevi giustamente molto complessa soprattutto per il libretto. Il libretto va letto secondo me, prima di andare a sentire quest'opera. Va letto perché intanto è molto bello, ma dall'altra parte è anche abbastanza complicato, ci sono tanti personaggi, numerosi intrighi. Quindi questo è un consiglio che darei ed è forse la ragione anche per cui l'opera all'inizio non venne perfettamente compresa. Il rimaneggiamento dell'opera negli anni Ottanta e dell'Ottocento va un po' a chiarire alcuni punti di questa storia, di questo libretto e al contempo va ad approfondire determinati contrasti, dei chiaroscuri. Si potrebbe definire questa seconda versione del Bocca Negra un po' caravaggesca potremmo dire perché è un'opera molto cupa ma al contempo contiene degli squarci luminosi fortissimi. Quindi è un'opera di grandi contrasti che colpiscono chiaramente l'ascoltatore. Ed è un'opera, soprattutto la seconda versione, in cui emerge chiaramente un protagonista che non è un personaggio umano, ma è il mare. Il mare è centrale all'interno di quest'opera. Quest'opera si svolge a Genova, è la storia del primo doge genovese e quindi il mare è di per sé abbastanza importante, ma qui assume una connotazione che è più di una connotazione semplicemente ambientale. Diventa un personaggio perché in esso Verdi ritrova alcuni valori, ritrova il valore della pace, dell'armonia, tutto ciò che mancherebbe, secondo la storia, all'interno della comunità umana, dilaniata da mille conflitti, mille atrocità congiure. Ecco, nel mare capiamo che Verdi individua questo elemento naturale nel quale l'uomo tende in qualche modo a perdersi alla fine della propria esistenza, ritrovando questa armonia evidentemente nella vita difficile da cogliere. Giuliano, tu ce l'hai detto, è tra le tue opere preferite. Sì, sicuramente. Cioè, convinti, però io vorrei che tu convincessi le persone, provaci, le persone che ci seguono in questo momento, dagli tre buoni motivi per andare a vedere quest'opera a teatro. Certo, beh, il primo motivo a mio avviso è che bisogna essere curiosi, quindi se non conoscete quest'opera dovete assolutamente andarla ad ascoltare. Ed è appunto, parte delle ragioni ve le ho dette, è un'opera che è così fortemente intrisa di questo senso di anche malinconia se vogliamo, legata alla natura, al mare, eccetera, che secondo me colpisce inevitabilmente la nostra fantasia, la nostra sensibilità. Secondo motivo inevitabilmente è legato a chi interpreterà quest'opera, il nostro direttore musicale Michele Mariotti, che già ci ha regalato bellissime interpretazioni verdiane con Aida un paio di anni fa, ad esempio, la nostra orchestra, il nostro coro sicuramente in grande spolvero durante l'inaugurazione e un cast di cantanti di primissimo livello. Adesso non sto a elencarli tutti perché i personaggi sono davvero molti. Ci fidiamo. E poi il terzo motivo, la regia. È un regista importantissimo quello che viene all'opera di Roma, si chiama Richard Jones, un regista inglese di livello internazionale indiscusso che all'interno della sua regia creerà qualcosa di un po' inaspettato perché farà riferimento ad esempio a un immaginario che noi non ci aspetteremo parlando della Genova del Trecento, dei riferimenti a De Chirico. Non vi dico di più perché dovete scoprirlo ma vi assicuro che sarà uno spettacolo davvero suggestivo. Convinto? Convintissimo, guarda, con le tre buone ragioni di Giuliano, io sono convintissimo. Avete visto scorrere anche il sito del Teatro dell'Opera di Roma, questi invece sono i Pancake dove andremo fra pochissimo. Giuliano, Danieli, grazie per essere stato con noi. Prepariamo la colazione anche per te dal 27 novembre al Teatro dell'Opera di Roma. Grazie. Grazie a te e buona giornata.